Ora lo sport con l'atletica Marco Lingua, 36 anni, lanciatore del martello dell'atletica Calvesi di Aosta, ha centrato il minimo per i mondiali e si è ben comportato anche ai campionati italiani assoluti a Torino. La maglia dell'atletica Sandro Calvesi di Aosta ha fatto bene al 36 anni e lanciatore del martello Marco Lingua. Il mese scorso a Lisbona ha ottenuto il minimo per i mondiali facendo registrare un 76,01. Anche nella prima prova dei campionati assoluti di società a Torino sulla pista primo Nebbiolo al parco Ruffini, Marco Lingua si è ben comportato lanciando a 74 metri e 92 centimetri. Ho riconfermato il mio valore, ho fatto 76 in Portogallo, adesso sono a un metro praticamente sotto, quindi ho riconfermato per la federazione questo minimo che ce lo valgo. In una gara comunque difficile, tante persone eravamo e quindi una gara lunga è stata, sotto il sole, insomma, non è stato fatto. Poi non ho tanti stimoli in queste gare qua, bisogna fare gare internazionali come ho fatto lì in Portogallo, come facevo nel 2008 che battevo campioni del mondo, campioni olimpici. Recentemente l'atleta di Chivasso al primo anno con la Calvesi è stato contattato dalla Fidal che lo ha nuovamente inserito negli atleti di interesse internazionale e in effetti con queste misure Marco Lingua è tornato tra i primi dieci al mondo, ma non sembra volersi fermare. Mi aspetto altre 4-5 gare a sto livello, se non più mi aspetto un 77,78 m, l'allenamento ha una continuità a 75,76 m, quindi deve scappare prima o poi un 77,78 m. In generale Lingua è assolutamente soddisfatto di aver scelto la Calvesi. Rigenerato, mi sento rilassato e questo è un'ottima cosa per fare un risultato, essere rilassati, alla grande. Vediamo le previsioni del tempo per il weekend.